Un altro scontro diretto, un'altra partita, un'altra finale. Affrontiamo, come hai detto giustamente, una squadra che in quattro partiti ha fatto nove punti, tre vittorie consecutive. Una squadra quadrata, subisce poco, si chiude bene, è pericolosa molto sulle palle inattive, è una squadra fisica. Dobbiamo fare la stessa partita di domenica scorsa a Melfi, grande carattere, grande abnegazione. Ritmo, intensità, un'altra partita fondamentale. Mi è piaciuto molto il primo tempo, molto, per la personalità, per quello che abbiamo creato. Non il secondo perché abbiamo smesso di giocare, ci siamo un poco abbassati, abbiamo rinunciato a giocare, ci siamo accontentati. Non siamo una squadra che si può accontentare o gestire, perché purtroppo gli errori fanno parte del gioco. C'è stato un errore e ci hanno pareggiato la partita, però sarebbe stato veramente un peccato per quello che la squadra aveva fatto, soprattutto al primo tempo. Bisogna essere ancora più cattivi, bisogna leggere meglio alcune situazioni, magari con un po' di malizia in più. Però, ripeto, da un punto di vista proprio dell'abnegazione, della voglia, questa è una squadra che veramente sta dando il massimo. Sappiamo che ci sono delle lacune che vanno colmate con il lavoro. Io me lo auguro, anche se la classifica è talmente ancora corta, siamo a quattro punti sia dall'alto che dal basso, quindi vincere significa veramente dare un segnale forte a chi c'è sotto, dare un segnale forte anche allo stesso Catanzaro, un altro scontro diretto a nostro favore e se non fosse così saremmo nuovamente riacciuffati dal gruppone e quindi dovremmo, come è giusto che sia, ancora continuare a cercare di fare questo salto di qualità che per una serie di cose non riusciamo mai a fare. Una giornata particolare per Mammì, per quello che ha rappresentato, perché mi sono informato, quindi so che è stata una figura importante per la Paganese e anche per lo stesso Catanzaro, no? Dico bene. Per quanto riguarda questa iniziativa so che ci saranno mille bambini allo stadio, so che c'è stato anche un appello da parte di Derisi, no? Mi sembra affinché il pubblico possa sostenerci. Siamo contenti e speriamo di ripagare questa fiducia che nonostante tutto chi è venuto allo stadio ci ha sempre manifestato e cerchiamo di fare risultato perché è normale che cresce l'entusiasmo, cresce l'autostima, speriamo sia una bella giornata domani.